Sono Davide Lazzarini, un imprenditore immobiliare con un'esperienza di 25 anni. L'immobiliare e la finanza sono sempre stati le mie passioni fin dai tempi dell'università e ho sempre desiderato essere totalmente indipendente nelle mie attività e anche nel trading. Però dopo tanto tempo avevo la necessità di trovare un ambiente formativo adeguato fatto di persone trasparenti e con un orientamento imprenditoriale. In Airforex ho trovato tutto questo, ho trovato persone molto competenti, disponibili, umili e direi anche profondamente orientate a trasmettere un metodo fondato sulla trasparenza e sulla qualità. Sono sei anni che faccio parte della community di Airforex, ho studiato tutti i percorsi digitali sia quelli riguardanti la parte tecnica che la parte mindset, ho fatto i percorsi quelli in aula, quindi il percorso completo. E lo scorso aprile Arduino, Schenato e Antonio Izzi hanno proposto l'accademia della Price Action. Dopo aver accolto questa loro proposta e aver appreso quello che era il programma formativo in maniera analitica, al termine della presentazione non ho avuto alcun dubbio a portare avanti anche questo percorso. Direi che oggi sono trascorsi alcuni mesi, ho superato la prima fase e dal mio punto di vista mi sento di dire che è la strada migliore per poter diventare un trader professionista, efficace e consapevole.